Sì, abbiamo tutti i bambini. Dai, forza! Di qua, di qua! Dai, forza! Bravo! Bravo! Bravo, grande! Bravo! Bravo! Vai, Matteo! Bravo! Bravo, bravo! Dai, forza! Grazie a tutti! Ma che vanno? Ah, sarai? Ah, Nanda, ti ho fatto vedere questa strima. No. Nanda, bravo! Ciao! Grazie! Grazie! Grazie, pote! Grazie, coido!! Questa è qua? No, questa è quella là. No, mi so che viene con l'acqua l'altra volta. Non è quella lì? No, lo so, sempre più di guai con l'acqua l'acqua. Bravi, bravi. Ciposta, bravo. Dai Chiara. Quattro minuti. Quattro minuti, bravi. Dai, forza, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Bravo, 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 bravo. Dai, dai, forza. Dai, dai, forza. Dai, forza. Dai, bravi, forza. Dai, forza, forza, forza. Dai, forza, forza. Dai, forza. Forza, forza. Bravi, 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 bravi. Bravi, bravi. Dai, forza, forza. Bravi, bravi. Dai, bravi, bravi. Dai, forza, forza. Dai, bravi, bravi. Bravi, bravi. Sha, bravi. Carlo, dai, dai. Fate per la stampa. Dai, 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 forza! Dai, 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 forza! Forza, forza, dai! Dai, bravissima! Dai! Chi sei, Marco? Forza, forza! Come stiamo andando qui? Come stiamo andando? Non ho capito! Vai bene? Ma te cosa nevi fretta? Dai, avanti! Bravo! Dai, forza! Bravo! Dai, bravo! Dai, bravo! Dai, bravo! Per tutti sono sempre in mano, va bene? No, 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 no! Bravo! Ok, può chiudere? Potete chiudere! Forza, forza, dai! Bravo! 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 Bene, bravo! Grazie! Grazie! Grazie!